Hai rubato il cappello che sopio io! Goal! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Lui è fake! Non c'ha il cappello di abbracciare! Non l'ho mai fatto con una boa! Non c'ha il cappello di abbracciare! 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 C'è il cappello di abbracciare! Non c'ha 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 il cappello di abbracciare! Ehi! Ehi! Papà! Io devo dimostrare che sono magro! Perfetto! Hai staccato il motore! Dai, Lore! Sei brutto? Vai a dare un po' di manforte che anche tra compagni il gonfiamento funziona! Cos'è? Che sta facendo? Che sta facendo? Mossa del gonfiamento! Sascha, dagli una mano a prendere il pallone! Magari cooperazione, aiutalo! La mia evoluzione non è ancora completa, papà! Vai, che ce la fate! Fratello ti indico porta! Focus sulla traversa! Cosa sta succedendo? Ha perso pure al pezzo! Mi hai lasciato un nano! Cosa hai massato? Qui! Scrabble! Qui! Daaaah! Un sacco! Ahahah! Geodude! Odae! Calumali! Eh no! Non ci siamo! Difficile! Dai gli hai dei cazzetto! Per essere il cazzo piccolo che sei bontista! Non mi vedo il pene! Sascha è Snorlax! Cattura quel cazzo di Pokémon! Pokeflauto per Sascha! Vai col Pokeflauto e colpisci! Vai! Suona la traversa! Ma cos'è? Bravo! Abbiamo dei problemi ad alzare la palla amici! Qua! Addiooo! Usa la caviglia del piede! Oltre ai problemi con la vista anche dei problemi con l'intelletto questo l'abbiamo capito! Usa il colon! Ma non ce l'ho il colon! E' una massa unica! Massa unica! E' mia! Cattiveria! E' mia! Ma parca! Chi è che prende la traversa? Lo prendo io! Chi è che prende la caccia di traversa? Io! Eh! Mi scusi signor capitano! Anima ci sei o no? Sono! E' la caccia sulla traversa! Capito? Se no esci dai mates! Sempre io la capio! Non ho capito! La colpirò allora! Però mi dè anche una barretta di cioccolato! Cioccolato assoluto con! Amici di sangue, amici di pelle, amici di cuore, amici di panza! Non è il suo padre! Io allora! Sei uscito bene! Ciao! Ti voglio bene! Ma mi sento una mongolfiera! Guarda papà la mia forza di volontà! Non è impossibile! Dai! Si! L'abbiamo perso! Cosa sta succedendo? No! Questa scena è brutta! Questa scena... Ahahahahah! Ahahah! Ahahah! Niente! Salvo io fratello! Ahahahah! Ahahah! Ahahah! Sei pronto Sascha! Sì! Pronto! Se non prendete la traversa fuori dai mates! Poi io... Sono rio! Chi fuori dai mates? Sassia! Vagli ad e porta! Vagli ad e palle! Poi ciò andiamo fuori! 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 Vi faccio vedere il segreto! Il segreto che mi insegna mio padre è quello vero! Lui l'ha imparato dai draghi! E muoviti! Due ore ti sta la moia qua! Tu che... Bravo! Sai che il segreto di papà vero non funzionava tanto! Complimenti! Dai e sta botta di vita! Non la prenderà mai! Non la prenderà mai! Ce ne possiamo anche andare raga! Così esce dai metri una volta per tutte! Ce penso io! Avevo detto che non ce la facevi! Ragazzi rismoltivi! Quando ti abbassi... Sono pronto a calciare! Per tutti i lottatori di sumo! Perché in Italia ce ne sono tanti! Che la mattina si svegliano e dicono noi non valiamo niente! Invece voi valete tanto! Perché se noi ci trasformiamo in dei lottatori di sumo vuol dire che voi valete tanto! Guarda chi sei! Hai metta faccia! Quindi prendo la traversa per voi! Per chi? Se tu lo vuoi tu lo sarai! Un lottatore di sumo! Se tu lo vuoi tu puoi! Quello è morto per terra nel frattempo che fai questo discorso! La traversa! Bella! Cosa sta facendo Sascha? Non ho capito! Madò! Guarda! Questo è per te! Uh! Questo ci credevo anch'io! Guardate come si fa! Eh vabbè basta! Surry! Che cazzo! Cosa dobbiamo fare? Il ballo? Cosa dobbiamo fare? La danza? Per avere la carica? Io proprio voglio solo mangiare! Fai a vedere ste merde va! Fai a vedere ste merde va! Fai una bella grattata ai coglioni contro la sfiga! Ebbè quello che è! Non me lo vedo il pisello! Lo faccio per i miei fratelli sumatori! Eh vabbè! Provo con l'ultima! Attenzione! Però c'era eh! Sono una delusione! Voglio bene lo stesso! Mi spiace! Ho i piedi unti! Vai! Vai Giuseppe! Nooo! Non c'entro niente io! Sei tu che sei capace! Prima vi ho un po' deluso! Adesso mi rifarò! Avete presente quando a scuola vi danno la densità di un'arancia e vi chiedono di calcolare la massa del sole? Calcolate la mia massa! Un merde! Se mario hai perso massa! Mi sei riconosciuto, riconosciuto le braccia! Aspetta! Ricoppia! È diventato magro! Abbracciare fa dimagrire! Seconda palla! Al 3-2! Fratello, sorello, gemello! io batti il 5 mi chiasi riuscire batti la tetta batti 10? 10? spacco tutto vai gli spacchetta sto pallone vai ha gemmato un salone ragazzi se prende la traversa vi fa uno spacchettamento su Clash Royale da un milione di gemme vai cosa? non mi assumo responsabilità di ciò che ha detto tecci intanto non la prendi c'è tipo 10.000 euro bello ha perso pure il tiro che abbia mai visto aspettate che devo sentire una cosa nei piani caldi puzza è bellissimo dentro cos'è il 3d? è la realtà virtuale? cammina così ma vabbè sono pronto merda al su ci prendo sempre il football roll il maestro ti ha insegnato bene prendi un'altra traversa dai così su ricarica allora ho arrivato a questa cosa è massa a questa cosa è massa aspetta ti metti la dietro marcia bi 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 oddio mio il pelo il sole ha il piede a cecchino addio porca troia quasi fratello porca troia guardate cosa è massa bella la forza dei samurai non è più con te allora io mi rigenzio faccio il segno degli aeroplani papà provaci credi prossima volta sumo basket challenge ma come fai fatti rimbalzare la panza e cade per terra prossima volta ancora sumo ok challenge poi sumo box challenge questa è baciata alla fortuna madonna se la bacia lui non è fatti fatti è fatti di tutti esplode la forza vai 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 incredibile questo tiro di giuseppe peccato ci riprenderemo col basket sumo fai vedere come si fa al basket sumo guardate come si fa madonna ragazzi è incredibile non ci posso credere è pazzesco ma come cosa c'è addosso c'era tipo un ragno grosso cos'è 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 un ragno addio oddio raga sto facendo la sauna oggi è stata una challenge alla chi come dicono challenge alla chi è sforzionata perché lì attraverso l'hanno presa solo stefano e su secondo me sono abituati a vestirsi esatto lo fanno al tempo libero ragazzi al tempo libero loro fanno sadomaso sumo superiamo i 50 mila euro alla prossima challenge di questo tipo ringrazio per la visione dei mates andate sugli altri cani per vedere i video per l'ultimo tiro se ce la faccio più faccio tirare l'ospite speciale prendila bravo neanche la porta ragazzi c'è la prossima video no il tiro dei figli il tiro dei figli papà responsabile su rivina a salutare in camera arrivo eh sto arrivando sei quello che ha preso più traverse sono arrivato è il bravo il regalo papà guarda così a caso ma va a caga